Pronto a entrare anche Bonucci, Pipita, Mandzukic, parte il cross col destro, il colpo di testa è Stegen, rimane lì, pronto al controcross, si avvicina Di Bala, quadrado, vuole andare nel dribbling, ecco Di Bala, si gira, prova il tiro, Rete, Rete, Di Bala colpisce subito, Di Bala a Musk, Juventus Stadio impazzito, Juventus in vantaggio. Padrone del campo dal punto di vista tantico, della precisione, della tranquillità di come far scorrere la palla con velocità e con tecnica, cambio di gioco di Iguaini. Cerca l'imbucata verso Iniesta, grande idea, Iniesta tutto solo, buffa un miracolo, buffa un miracolo, incredibile. Ma come gliel'ha messa quella palla, veramente una maniera. Beccato bene da Pianic, attenzione, Iguaini in mezzo, arriva anche Di Bala, prova a girare subito, Rete, un altro gioiello, un altro capolavoro, incredibile, Di Bala! L'assistente aveva accordato la rimessa, attenzione, qui c'è un fallo, no, lascia giocare l'arbitro, attenzione, sì, c'è la segnalazione, c'è la segnalazione, gioca ferme, gioca ferme. C'è anche il Pipita, quadrado, tempo reggia, aspetta anche i riforzi, lo cerca il dribbling, all'indietro lo scarico e cerca poi il tiro Pianic, l'Alexandro la protegge, va a cercare il Pipita, controllo e tiro subito, Teštegen rischia. Pianic, cerca l'imbucata per Neymar, attenzione, può andare a rimanere lì, Messi, destro secco, si accetta improvvisamente, che dira, zora tiro, prova! Attenzione, sta arrivando Rakitic, Suarez, cerca un'idea, dribbling secco, prova a metterla in mezzo, Mandzukic, Iniesta, prova lui, che brivido, arriva Dani Alves, quadrado, cerca il Pipita, zora tiro, destro piazzato, debolo, è arrivato il giallo, profondità per Higuain, attenzione, posizione regolare, Pipita, tutto solo, Pipita, destro, Teštegen! Le occasioni in Barcellona, parte il cross, lungo dall'altra parte, colpo di testa, palo rete a Chiellini, Chiellini rete, Chiellini rete, palo rete, 3 a 0, in Chiellini! Scarico su Rakitic, per Messi, gran numero su Chiellini, cerca l'imbucata per Suarez, Suarez si gira! Occasionissima, ministro, ancora Messi, figge il cross, eccolo col destro, rientrare, Rumi Titi non ci arriva, che brinca!